Oggi parliamo di microfonazione, non di classico strumento, quello che si fa nei nomi record, chitarra, voce, ma di violino. Abbiamo l'ospite, ma dopo la sigla. Ciao, bentornato sul mio canale, io sono Marco, oggi ho un ospite, ho Giorgia Lenzo, violinista, violoncellista? Violista, violoncellista e violoncellista. Violoncellista non ancora. Vabbè, però, dai. Vabbè, al prossimo giro. Oggi è ospite da me in studio perché dobbiamo registrare delle parti di violino e di viola. Come le andiamo a fare? Le vado a fare con l'antelope edge solo. Ti chiedo solo di metterti in posizione così facciamo vedere. Ok. Il microfono è un cardioide e praticamente andrò a prendere tutta questa parte del violino. La distanza è circa due spanne. Questo perché lo strumento tende comunque ad avere un bel volume, quindi avvicinandolo troppo bisognerebbe abbassare molto il guadagno e non avresti l'ampiezza della stanza. Però, banda le ciance, adesso ci spostiamo poi alla Do, dove ci sarà la registrazione, così andiamo a sentire come lavora il microfono del lantello per registrare uno strumento classico. Ci siamo spostati sulla Do. Allora, noi abbiamo registrato con Giorgia una composizione, un arrangiamento che ha fatto Matteo, Matteo Sabetta per un quartetto d'archi. Abbiamo registrato violino 1, violino 2 e una viola premessa. Vabbè, poi ti metterò il link quando uscirà tutto il video completo, l'esecuzione completa del video. Ti metterò poi il link quando potrai sentirla. Da quello che ti faccio vedere e alcune, come si dice, alcune situazioni che, insomma, con un violino o comunque con uno strumento ad arco, secondo me bisogna tenere d'occhio. Allora, innanzitutto quando registri qualsiasi strumento, che sia una voce, una chitarra, poi ci sono, vedremo tante tecniche piano piano sul canale. Sto preparando un po' di video. Quello che bisogna fare attenzione è alle dinamiche, soprattutto quando lavoriamo con strumenti classici, come può essere il violino. Il violino ha molta dinamica, quindi occhio a come setti il gain ed ingresso del tuo microfono. Io normalmente cerco di stare in una forbice, come potrai vedere ci saranno delle parti, adesso allargo un po' troppo esploso, così sarebbe da esplorare un po' meno. Comunque, il fatto di avere molta dinamica di... eccolo qui, prendiamo questo punto. Quando fai registrare un'esecuzione classica, si può fare a take tranquillamente, perché in questo caso l'abbiamo anche fatto alcune parti a take, perché volevamo rivedere delle parti. Però quello che ti consiglio è di non stare a diventare matto a controllare il gain all'inizio, perché tu imposta... Io normalmente faccio questa cosa qua, chiedo all'esecutore di fare il pezzo con maggiore pressione sonora, in modo da tararmi il gain di ingresso in quella situazione lì. Come ho ripreso questo violino? Allora, per farti capire, io nella prima parte avrei visto che ho usato l'Edge solo dell'Antelope, questo per due motivi. Uno perché volevo provare questo microfono un po' bene, nel senso che è un microfono che mi è stato dato quando ho preso la Discret 4, non ho ancora potuto provarlo bene e quindi ho optato appunto per utilizzare questo microfono. Non ho utilizzato, te lo dico subito, non ho utilizzato le emulazioni, ma adesso ti comparirà. Allora, eccola qui, ho utilizzato, sì ho messo Edge, però in questo caso sono andato a mettere questo amplificatore, l'ho attivato e non ho assolutamente utilizzato l'emulazione. Questo perché volevo avere la possibilità di scegliere poi quando andrò a fare il mix con Matteo, andremo a fare il mix, magari sceglieremo di mettere tipo l'U87 magari su quello che è il, magari un violino, adesso andremo poi a decidere successivamente. Quello che volevo farti sentire invece è la resa sonora di un pezzettino di come suona il violino ripreso con l'Edge, l'Edge solo. Quindi ascoltiamoci un frammento di questo brano che ho registrato. Ok, è solo un frammento, ripeto, poi tutta l'altra parte te l'andrai a sentire sul canale di Matteo. L'Edge solo mi piace molto, è molto preciso come microfono, mi ha lasciato la dinamica inalterata del violino. Io non sono andato a ritoccare il gain per esempio in questa parte, è un po' più basso rispetto all'altro. Questo perché è uno strumento classico, ho voluto mantenere la dinamica del microfono. Premessa, è stato registrato nel mio box, quindi la stanza non ha un, per scelta non ha un riverbero, non ha un riverbero suo. In un altro video, quando mixeremo questo brano, ti farò vedere come ricreare una stanza virtuale per un quartetto d'archi. La prima parte di questo video su la registrazione di uno strumento non tradizionalmente da home recording, però magari c'è qualcuno che nel gruppo suona il violino e vuole magari registrarsi in casa, potrebbe interessare. Ho terminato, nelle prossime puntate ti faremo vedere anche come mixiamo questo quartetto d'archi, come più che altro sarà più un lavoro di processamento degli effetti per quello che riguarda dagli un po' più di tridimensionalità e meno averlo in faccia. Ho finito, ti invito ad iscriverti, attivare la campanella, seguirmi anche sui canali social e se ti fa piacere andare sul mio sito che è marcolemandi.it, iscriverti alla newsletter per rimanere sempre aggiornato sui nuovi contenuti di questo canale. Ci vediamo presto per un nuovo video, ciao! Grazie